Colpo di scena nel Consiglio Comunale di Insediamento del nuovo corso amministrativo a Librizi. Dopo il giuramento dei consiglieri comunali, il Presidente dell'Assemblea ha fatto uscire il pubblico dall'Aula e pare sia stata sollevata la questione dell'incandidabilità del consigliere Francesco Tricoli, già candidato a sindaco e giunto secondo davanti a Annunzio Scaglione e dietro il sindaco rieletto Renato Di Blasi. Uscendo dall'Aula Tricoli sono usciti anche due consiglieri di opposizione del suo schieramento. Da qui il caso politico per una questione risalente al 2010 che con ogni probabilità essendo trascorsi oltre 12 anni si sarebbe potuta zerare e che ora si sta connotando già da alcune stranezze. Tricoli è in possesso del certificato del casellario giudiziario del 29 aprile 2022 da cui non risulta nulla. Nel contempo, lo ricordiamo, Tricoli nel precedente mandato di Renato Di Blasi è stato vice sindaco per due anni e poi consigliere comunalusciente per i tre anni successivi. Come mai questa situazione, se sussistente già prima della sua candidatura a componente dell'esecutivo Di Blasi, non è stata sollevata cinque anni fa? Questo, oltre a quello del certificato del casellario, è un altro mistero. A questo punto, mentre Tricoli ha comunicato già di voler chiarire la propria posizione e di essersi rivolto ad un legale per impugnare gli atti del Consiglio Comunale, un'altra domanda sorge spontanea. Se dovesse sussistere l'incandidabilità, ci sono i presupposti perché a Librizi si ritorni alle urne? Dalle questioni ancora aperte a Librizi ci spostiamo a Montalbano e Licona. Alla presidenza e vicepresidenza dell'Aula sono state eletti Giovanni Tortora e Marinella Lupica Spagnolo. Il consigliere Roberto Arlotta, primo dei non eletti nella lista Vivere insieme a Montalbano, ha preso il posto dell'ex sindaco Filippo Taranto, che ha rinunciato alla carica di consigliere comunale di minoranza. Infine, il neosindaco Nino Todaro ha comunicato all'Aula i componenti del suo esecutivo e le deleghe. Fabio Truglio, vice sindaco, con deleghe allo sport, turismo, spettacolo, cultura, istruzione e sanità. Nicola Bartolone, agricoltura, rapporti coglienti, decentramento, frazioni e raccolta differenziata. Mario Sidoti, protezione civile, attività produttive, artigianato e commercio, efficientamento energetico e servizi cemiteriali. Edelia Neculaita, politiche sociali e pari opportunità. Il sindaco si è riservato lavori pubblici, urbanistica e promozione del borgo.